Ben ritrovati a Perché si dice, il programma che vuole vagliare, sondare, scoprire le parole. E oggi ne scopriamo una che abbiamo già detto nelle puntate precedenti e saltata fuori, che è curiosa, da frequentatore di lettere mi ha sempre suscitato, non so nemmeno se la pronuncia sia giusta, perché a volte il problema dell'autodidatta è pure questo. E il contributo che ha dato la Sardegna con le parole dialettali, perché ogni regione ha dato la sua parola, o più di una, Cozza, Scamorza, Guaglione, Andrangheta, Picciotto, Coppola, Bacucca, Braghe, Orbace, ognuna viene da una particolare regione d'Italia e è entrata a ragione, come Sbolognare, precedentemente citato in un'altra puntata, è nel dizionario della lingua italiana, tutti i dizionari, non in uno. E dicevamo, irrilevante è il contributo linguistico che ha dato il Sardo, essendo la Sardegna un'isola, e quindi essenzialmente isolata, molto più della Sicilia, però comunque c'è stato. E a parte i caratteristici nurachi che conoscete tutti, e sono conosciuti anche all'estero, grazie a Dio, la voce Orbace è il tipico panno regionale di lana grossa, che dovrà la sua fortuna nell'essere stato adottato nel 1933 per le divise fasciste, ma già prima però, quindi l'attestazione è precedente, già prima d'annunzio il vade d'Italia aveva elevato a dignità letteraria in più che l'amore, una tragedia orribile però va bene, e nelle canzoni e nelle gesta d'oltremare, che pure quelle le lasciamo perdere, le sorelle cuciono in sogno il suo gabbandorbace, versi di D'annunzio. E mi aveva curiosito proprio perché ho letto sta canzone e dico, ma che è sto coso. Lo cerchi sui dizionari e lo trovi perché fa parte, giustamente come già fu detto nel 1933, fu adottato per divise fasciste, ma poi era entrato nel gergo comune, e quindi da dialetto è trasferito nella lingua italiana. Come per esempio noi di zona siamo a volte soliti dire mo vengo, mo. Questo mo in realtà non è dialetto, perché se tu vieni qui, pur qui, mo giuso, dice Dante, mo giuso significa adesso giù, quindi mo sta nella Divina Commedia, ma non lo usa solo lì, lo usa in tantissime altre occasioni, Dante. E ora passiamo di pala in frasca, che significa provolone? Fare il provolone pure c'è come proverbio, quindi dice che uno fa il provolone, che significa? Che fa quello che ci prova, il seduttore, il playboy, il latillover. Allora, quindi abbiamo il formaggio e il latillover. Come possiamo coniugarli? Forse perché il provolone, prima di essere confezionato, è soggetto a una prova e quindi va provato, e quindi l'assaggio. Forse il provarci con una e da lì scaturire il provolone è un attimo. E quindi soprattutto poi l'insulto non viene da chi ci prova né da quell'altra, ma dal terzo che vede, che dice ammazza, questo è proprio sfacciatissimo. I significati sono, ripeto, molteplici e sono tutti divertenti, perché come ingoiare il manico di scopa. Cioè, quando uno è tutto impettito, azimato, preciso, dice, si capirà benissimo perché? Perché sembra che proprio gli abbiano infilato un manico di scopa e quindi sta irrigidito. Concludo con i cognomi. Ecco, questo ancora mi ha sempre, che ne so, vai su un citofono, colantonimo, senza, non è che volevo fare decimenti a nessuno, colantoni. E da che deriva? E deriva dal sud, perché cola, nicola e da lì vari toponimi. Per esempio, qui lì cola, antoni, lì in quel caso era cola e antonio. Succedeva però, prima del Medioevo, quindi in un periodo proprio funesto, che i genitori abbandonassero i bambini o li vendessero addirittura, proprio come succedeva nelle fiabe terribili dei Grimm, dove i bambini vengono sperduti nel bosco, e uno pensa che sia una cosa tanto leggera. Succedeva che però venivano venduti, se erano femmine, alla prostituzione, se erano maschi invece venivano, come servi della gleba tranquillamente, venivano utili. E quindi succedeva questo. Succede però, grazie a Dio, che c'è un certo Federico II, che per tante cose, Federico II di Svevia è stato forse un lume, un po' oscuro, però comunque forse ha cercato di fare delle cose buone. Tra tante leggi che ha fatto, una ricordiamo la defensa, che è una legge che appunto è di quelle un po' insomma, secondo me, bruttarelle, perché siccome era usuale lo stupro, tanto più i nobili a cavallo magari vedevano contadine cose giù, e allora ha istituito sta cosa per cui, almeno c'è un indennizzo, se venivi sorpreso, non ti ammazzavano, perché ovviamente non puoi uccidere un nobile, però venivi indennizzato come il violentatore, in questo caso doveva avere nella borsa non so quanti denari in oro, e al momento della fragranza doveva alzarsi in piedi, alzare le mani al cielo, dire sia gloria all'imperatore, grazie a Dio, e spargere denari sul corpo della poveretta che stava lì, e dice, almeno una volta sono stato indennizzato, perché da volte manco quello capitava. Quindi che succede? È un periodo orribile, e che fa Federico II? Giustamente pratica la cosiddetta oblazione, cioè consisteva nel lasciare in dono chi non poteva permettersi di crescere i figli, li lasciava nei conventi, e quindi erano dediti ormai questi bimbi alla vita monastica, e quindi diventavano non predi, ovviamente, ma lavoravano e orbitavano intorno alla parrocchia, diciamo proprio al convento, al monastero. A Napoli, per esempio, tutti i bambini della ruota degli esposti si chiamano appunto esposito, che è esposto in spagnolo, perché ricordate pure il periodo. A Firenze, in Toscana, uno dei conventi fu l'ospedale di Santa Maria degli Innocenti, e gli esposti ebbero tutti il cognome di Innocenti, Nocenti, Nocentini, eccetera. A Milano l'istituto era l'ospizio di Santa Caterina della ruota, che aveva come simbolo una colomba, perciò qui i trovatelli venivano nominati Colombo e Colombini. Similmente a Pavia, ad esempio, gli esposti venivano chiamati spesso Giorgi, mentre a Siena della Scala. Spesso i bimbi abbandonati venivano chiamati con cognomi esplicativi, esposti, esposito, orfano, proietti, trovato, ventura, venturini, bastardo, purtroppo pure questi cognomi, ignoto, incerto, davanzo, spurio, casa dei, casa di Dio, casa grande, eccetera, eccetera. L'ho visto di tutti, li ho segnati addirittura proprio perché volevo darvi questa precisazione storica, ma anche linguistica, e perché no, sociologica. Con questo vi saluto e restate sui programmi di TRC.